Salve, sono Aurelio della Moera e sono qui per mostrarvi una grande qualità. Non c'è 14 senza 15, abbiamo inventato un nuovo proverbio per inaugurare in questo momento l'arrivo di un nuovo colore di Cardholder nella collezione Moero. Conoscete già i 14 colori, il quindicesimo colore è un colore molto particolare perché abbiamo rifletto sul fatto che volte e volte ci avete detto ma un blu che non sia così blu, un blu che non sia così chiaro, non ce l'avete, non ce l'avevamo. Ora sì, abbiamo un blu Midnight, un blu che ricorda il cielo della notte. Ecco qua, questa è la fronte e per farvi vedere quanto sia bello abbinarlo anche nei pellami classici qui ho quattro pellami. Faccio vedere col nero, col saffiano nero, questo è l'effetto, avete questo colore che ha questo riflesso un po' metallico, molto interessante da vedere e da far notare. Ecco qua, lo faccio vedere anche da aperto da quest'altro lato così è come lo vedrete quando lo acquistate e anche tono su tono perché spesso dicevate ma il blu dentro al blu, vintage blu, non lo amo. Adesso lo dovete amare, amare tantissimo per quanto sia bello da vedere e soprattutto comodo e utile. Questo qua è la versione saffiano blu. Guardate che matrimonio naturale, per chi ama il tono su tono è il modo migliore per poterlo abbinare. Finalmente lo andiamo ad aggiungere alla collezione. Eccolo qua, adesso abbiamo ben 15 colori a disposizione, sono disponibili sul sito, presto potrete vedere anche tra oggi e domani le foto, potete anche vedere i vari abbinamenti di colore, però questo lo trovate già disponibile da subito. Scegliete meglio l'originale, scegliete sempre questo. Moero.